Movimento 5 Stelle e Partito Democratico festeggiano la vittoria di Alessandra Todde, nuova presidente della regione Sardegna. Classe 69, originaria di Nuoro, la Todde ha conquistato il 45,3% dei voti sconfiggendo Paolo Truzzo del centrodestra. Più saccati Renato Soru di coalizione Sarda e Lucia Chessa di Sardegna resiste. Sono la prima donna presidente della storia della Sardegna, questo è il risultato dei Sardi e di una coalizione che ha investito in questo risultato. Per la Celai nel vento è cambiato, per Conte in Sardegna è prevalso il metodo del campo giusto. Per la Celai nel vento è cambiato, per Conte in Sardegna.